DECISO DA COSA TI VESTIRAI Che tizio che ho visto nel negozio di costumi? Signore, che cosa sta facendo? Non sono stato io. Aveva macchie di sangue sulla maglietta e sulle mani quando è tornato. Ti dico che era lui. Ellie, aveva lo stesso neo sulla punta del naso. Sei davvero bizzarro, lo sai? Io gli credo. Riguardo a cosa? Succederà qualcosa di brutto stanotte. So quando Jonathan mente. Posso sentirlo dalla sua voce. C'è qualcosa che non pare. Dobbiamo divertirci, no? Qui nessuno può stressarci. A proposito di sorprese, ragazzi, oggi con noi abbiamo un ospite davvero speciale. Direttamente da Miles County. Fate un bel applauso per Artie Clown! 9-1-1. Qual è l'emergenza? allowingola. Surveyor strategy. Non è un bel applauso per dirma vuora. Propagando. Terra harvesters. brauchen la ricerca. Ro! Ho! 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 Grazie per la visione!